Il prologo sarà venerdì 23 giugno con la partenza da Varese e l'apparodo all'aeroclub di Calcinate. Momento clou la corsa di sabato 24 dalle 12 e mezza col via in piazza Montegrappa e il passaggio in tanti luoghi suggestivi del Varesotto. Tocchiamo importanti comuni come Luino, Somma Lombardo, Cadrezzate, transitiamo attraverso delle dimore storiche che sono il castello di Somma, il castello di Gola Secca, arriviamo a vedere il Museo Parisi a Maccagno, quindi cerchiamo di avere dei collegamenti importanti con il nostro territorio, quindi far scoprire ai concorrenti che arrivano da lontano le bellezze della nostra provincia di Varese. Dulcis in fondo. Le 32 automobili d'epoca si sfideranno al centesimo del secondo in un percorso cittadino aperto a tutti, quindi tante persone dietro le transenne e tanta passione, tanti bambini che guarderanno le auto storiche. Vi aspettiamo dalle 21 alle 23 e 30. Piazza Montegrappa, sabato sera.